La presentiamo PipeCare qui a Ravenna, la scuola di alta formazione sui sistemi idrici. PipeCare oggi presenta alcuni case studies di applicazione della sua tecnologia, tecnologia che ha la particolarità di realizzare la riduzione massiva delle perdite d'acqua, la riduzione media fino al 70% delle perdite in rete, soprattutto le perdite di fondo e di sottofondo, ha la particolarità di farlo senza scavo, attraverso l'utilizzo di resine particolari che vengono iniettate in rete e contemporaneamente sigillano le perdite sulle tubazioni principali, sugli allacci e sulle prese. PipeCare in realtà utilizza una tecnologia di origine israeliana prodotta da CuraPipe, noi siamo gli esclusivisti in Italia ed è una novità del settore. L'obiettivo che ci poniamo è quello di aiutare gli operatori del settore, oltre a ridurre le perdite, è anche quello di ottenere in maniera cost effective i target che è la Rera apposto a tutti gli utili, i target di qualità del servizio. Perché in maniera cost effective? Perché la nostra tecnologia promette di costare da un terzo o un quinto rispetto al costo ugualente della tecnologia tradizionale di sostituzione dei tubi piuttosto che dell'inliner, piuttosto che tecnologie simili e soprattutto si implementa in tempi rapidissimi, in tempi che sono notevolmente ridotti rispetto alle applicazioni tradizionali. Oggi è talmente nuova la tecnologia, soprattutto in Italia, che noi rappresenteremo le esprimentazioni già fatte, in particolare quelle di Formia e quelle di Opera, Gaggiano e quelle in itinere con altri operatori in Italia e ci aspettiamo che questo contributo venga poi preso seriamente in considerazione anche dalle altre utility in modo da difornere il verbo.